Molto più di un progetto scolastico, un vero e proprio percorso di educazione affettivo-relazionale realizzato attraverso l'analisi dei rapporti interpersonali giovanili ed incontri formativi con gli esperti. Così si potrebbe riassumere il progetto denominato Vogliamo Crescere, svoltosi durante quest'anno scolastico presso l'Istituto Tecnico per Attività Sociali Bruno Chimirri di Catanzaro. Il progetto Vogliamo Crescere si inserisce nell'ambito di una iniziativa tesa a studiare quelli che sono i comportamenti nell'ambito dell'educazione affettivo-relazionale a livello di adolescenti, perché il target dell'Istituto è costituito da ragazzi che vanno dai 14 fino ai 19-20 anni. Quindi abbiamo voluto con questo progetto inserito appunto nel POF di quest'anno tentare di comprendere quali sono i comportamenti e che tipo di relazioni sono importanti a quest'età che è particolarmente travagliata su alcuni aspetti. Il progetto ideato dalle professoresse Giulia Martorana e Rosangela Marino ha fornito agli studenti, grazie alla collaborazione degli esperti esterni, il nutrizionista Massimiliano Scalzo, la pedagogista Aurora Martorana, la presidente della RAGI Elena Sodano e lo psichiatra Michele Rossi, contenuti mirati e strumenti utili per la costruzione di relazioni equilibrate e consapevoli. I ragazzi sono di età compresa fra i 16 e i 20 anni, fanno parte praticamente del triennio. Dal punto di vista della composizione familiare, socio-familiare, abbiamo un 80% di famiglie tradizionali e il restante 20% si suddivide a vario titolo con famiglie allargate, figlie di genitori separati e anche dei genitori vedovi. Nel 98% dei casi i ragazzi hanno dichiarato di vivere serenamente la vita familiare e soltanto un 2% degli intervistati ha dichiarato di avere forti conflitti familiari. E infine, per quanto riguarda i rapporti tra fratelli, è lì che si riscontra un piccolo dato in cui soprattutto i maschi e le femmine in età tra i 16 e i 17 anni hanno dei conflitti. Per il resto comunque sembra che la vita familiare sia abbastanza serena per la maggior parte degli alunni. Per quanto riguarda invece le abitudini relazionali nel gruppo dei pari, abbiamo un 98% che dichiara di utilizzare correntemente Facebook, i social network, i cellulari e i telefonini per la comunicazione. E infine, per quanto riguarda le relazioni affettive, il 50% ha dichiarato di essere sessualmente attivo e di questo il 25% ha di non utilizzare nessun tipo di precauzione. Pertanto questo è il dato che ci ha allarmato di più, proprio per il riscontro che questo ha sui nostri ragazzi sia dal punto di vista emotivo, quindi psicologico, sia per quanto riguarda la salute degli stessi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!